Drogue, operazione nell'Agrigentino e nel Nisseno 25, le misure cautelari. Riscossione tari 2023, le scadenze dei pagamenti, 16 marzo, 17 luglio e 16 novembre, mentre unica soluzione il 16 giugno. Parte anche il nuovo servizio online per il contribuente. Lunedì, riunione del Consiglio Comunale di Caltanissetta, un solo punto all'ordine del giorno, istituzione del IV Policlinico Universitario Siciliano. Pista ciclabile, attenzioni puntate sul tratto stadio Viale dei Giardini e sul destino di un massiccio numero di alberi. Bentrovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale. Apriamo parlando di cronaca, droga, operazione nell'Agrigentino e nel Nisseno 25, le misure cautelari. Ma sentiamo i dettagli nel servizio. Operazione antidroga nelle prime ore dell'alba di questa mattina, che ha interessato le province di Caltanissetta, Agrigento e Catania. La squadra mobile di Agrigento ha eseguito una ventina di misure cautelari fra Licata, Gela, Campobello di Licata e Canicattì. L'inchiesta, che come detto si estende anche nella zona di Catania, ha permesso di portare alla luce un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Sono state 25 le misure cautelari firmate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della locale direzione distretto l'antimafia, eseguite dalla squadra mobile della Città dei Templi. E cambiamo argomento, parliamo della riscossione Tari 2023 e dell'avvio del nuovo servizio, del nuovo portale online per il contribuente. Tornando a parlare di Tari, le scadenze dei pagamenti sono 16 marzo, 17 luglio e 16 novembre per le tre rate, oppure unica soluzione il 16 giugno. Nuova settimana e nuovi inizi. Il 20 febbraio il Comune di Caltanissetta ha inaugurato il nuovo portale online che permette al cittadino di tenere sott'occhio, o meglio, a portata di click le proprie pratiche, relative ad esempio alle dichiarazioni IMU, Tasi, Tarige, Inviate o per la compilazione guidata delle stesse. Tramite portale si prevede la possibilità di effettuare il calcolo dei tributi locali dovuti con relativo F24 e pagamento online degli stessi tramite Pago PA, oppure richiedendo la debito sul conto corrente, consultare la propria situazione anagrafica o posizione tributaria conosciuta dall'ente, con il quale si potrà interagire in un certo senso tramite la bacheca Messaggi. A proposito di tributi, tra gli avvisi sul sito del Comune Nisseno viene annunciato contemporaneamente al lancio del portale anche il prossimo avvio della procedura di riscossione della Tari, tassa rifiuti, per l'anno 2023 ed eventuale conguaglio 2022. Gli importi dovuti dovranno essere pagati o in un'unica soluzione entro il 16 giugno, oppure in tre rate, la prima con la scadenza del 16 marzo, la seconda il 17 luglio e la terza il 16 novembre. E mentre in questi giorni cominceranno ad essere recapitati gli avvisi ai cittadini, gli stessi potranno consultare anche online la propria posizione e pagare i tributi. Per accedere al portale online per il contribuente è necessario lo spido o la carta d'identità elettronica. Si prevede anche un'ulteriore opportunità, si potranno ricevere notifiche o effettuare pagamenti anche attraverso l'app Io, dopo aver configurato la possibilità di ricevere le notifiche del Comune. Entro l'estate le funzionalità del portale, si legge sul sito del Comune, saranno integrate in un più ampio portale di tutti i servizi al cittadino, con una nuova interfaccia grafica. Questa iniziativa rientra nella più ampia azione di riorganizzazione e digitalizzazione dell'attività dell'Ufficio Tributi del Comune Nisseno, che prosegue in questo momento con l'assessore Giuseppe Lamenza, con delega ai Tributi e Sistemi Informativi. Lunedì, riunione del Consiglio Comunale di Caltanissetta, un solo punto all'ordine del giorno, l'istituzione del IV Policlinico Universitario Siciliano. Con determinazione della conferenza dei capigruppo del 20 febbraio, il Presidente del Consiglio, Giovanni Magri, ha convocato il Consiglio Comunale monotematico in adunanza aperta per giorno 27 febbraio, alle ore 18, presso la Sala Consigliare del Palazzo Municipale. Un Consiglio monotematico in cui l'unica nota all'ordine del giorno è la proposta di deliberazione dell'istituzione del IV Policlinico Universitario Siciliano. Da giorni, il tema riguardante il Policlinico continua a far registrare una grande mobilitazione in città, tra raccolte di firme indotte dal gruppo di lavoro dei ragazzi universitari e singoli cittadini. Essitin, come quello di sabato scorso, d'innanzi il Comune, organizzato dall'Associazione Caltanissetta Sicura, sino alla conferenza dei sindaci della provincia avvenuta ieri mattina. Laboratorio di analisi, piano operativo per fronteggiare la sospensione delle attività da parte delle strutture private che hanno aderito allo sciopero. È stato disposto un piano operativo per fronteggiare la sospensione delle attività di laboratorio da parte delle strutture private che hanno aderito allo sciopero. Lo hanno previsto l'assessore regionale alla salute Giovanna Volo e il dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica, Salvatore Requiretz, che hanno inviato alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario Pubblico Regionale una comunicazione con le strategie da mettere in campo per limitare disagi ai cittadini. In particolare, prevedendo anche la possibilità che si possa fare ricorso a prestazioni aggiuntive, l'assessorato ha chiesto che venga disposta con immediatezza una rimodulazione delle attività di laboratorio, ampliando le agende e garantendo dalle 8 alle 20 le attività di accettazione, pagamento, prelievo, analisi e refertazione. Inoltre, ha invitato le strutture a massimizzare gli spazi destinati all'accoglienza dei cittadini per far fronte all'inevitabile incremento di afflusso che interesserà tutte le strutture pubbliche. L'assessorato ha previsto anche la realizzazione di un monitoraggio del prevedibile aumento di prestazioni erogate nei singoli laboratori per effettuare la necessaria e conseguente analisi dell'impatto che le manifestazioni di protesta potrebbero avere sul Servizio Sanitario Pubblico. Infine, con una prospettiva più a lungo termine, Volo e Requiretz prevedono di lavorare concretamente con gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Regionale a un piano di potenziamento dell'offerta specialistica pubblica attraverso la riorganizzazione delle risorse presenti e la rimodulazione dei percorsi e degli orari di fruizione del Servizio. Torniamo a parlare della pista ciclabile. Attenzioni puntate su un tratto in particolare sul destino di un massiccio numero di alberi, ma sentiamo i dettagli nel Servizio. La pista ciclabile, in fase di realizzazione, il cui finanziamento rientra nell'ambito di agenda urbana, al centro di un incontro tra il Comune e le associazioni ambientaliste del territorio, l'aspetto che ha attirato maggiormente l'attenzione e l'impatto che questo progetto potrà avere soprattutto nel tratto di strada che va dallo Stadio Tomaselli verso Viare dei Giardini, dove si prevede l'abbattimento di numerosi alberi. Dopo la presentazione del progetto, le associazioni ambientaliste Italia Nostra, Legambiente, Lipo e WWF si legge nel comunicato firmato dai responsabili o presidenti e dal naturalista Medeo Falci, hanno evidenziato di comprendere e condividere l'importanza dell'opera in oggetto, soprattutto in tema di sviluppo di una mobilità lente e sostenibile, ma anche di utilità, della stessa per aumentare la sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e dei runner, che ogni giorno fruiscono di quella strada in condizioni di grande pericolo, data l'assenza di una banchina ed un'adeguata illuminazione, e per la migliore gestione dei reflui civili. E per la migliore gestione dei reflui civili, allo stesso tempo, però, si legge ancora, hanno fatto rilevare diverse problematicità dal punto di vista procedurale e per gli impatti ambientali. A tal proposito, vengono avanzate anche delle proposte. Noi suggeriamo all'amministrazione di valutare due ipotesi alternative. Ipotesi A, fare diventare la strada di Viale Stefano Candura, Pian del Lago, soprattutto da Biominichelli, verso la Via dei Giardini, farla diventare assenso unico, di marcia, per le macchine, così che praticamente si salverebbero questi alberi. Le macchine dovrebbero andare, perché attualmente c'è un limite orario di 30 km orari che nessuno rispetta. Bisogna invece creare una carreggiata in sede propria per le macchine e lasciare l'altra metà della carreggiata stradale per il libero sfogo di chi viene a correre, i ciclisti. Questa è l'ipotesi 1. Ha il limite di non accontentare quelli che vogliono la fognatura fatta nel canalone di Pian del Lago. L'ipotesi 2 che potrebbe contemplare entrambe le cose è fare una corsia della pista ciclabile su sede stradale, quindi lateralmente a sinistra per capirci del filare di alberi, e la corsia invece di destra farla andare dentro il canalone. Richiedono inoltre un'indicazione più precisa su quali alberi verranno coinvolti dal taglio e in futuro messi a dimore e che in tutti i casi venga rispettato il periodo della nidificazione, cioè da marzo a luglio. Rassicurazioni in tal senso arrivano dall'assessore al ramo Marcello Frangiamone, dato che gli interventi sono già iniziati. Non sarà un taglio così netto e senza alcuno scrupolo, ma si valuteranno gli alberi singolarmente e tutti quelli che si potranno salvare si salveranno. Si faranno anche magari delle piccole modifiche sul percorso della ciclovia in modo tale proprio da salvaguardare la presenza degli alberi. Il numero di alberi che sarà tagliato sarà ampiamente sostituito con altri alberi anche di età adulta che saranno piazzati proprio ai bordi della ciclovia sia qua lungo il percorso sia anche in altre aree della città di Caltanissette in modo tale che alla fine il bilancio ambientale degli alberi sarà nettamente positivo. Viene eliminato un canalone che da sempre è stato un ricettacolo di rifiuti. Spesso l'acqua che rimane lì diventa torbida anche dal punto di vista dell'inquinamento è qualcosa anche di grave. Quindi eliminiamo questo primo problema. Tanti di quegli alberi che saranno tagliati sono gli alberi o ammalorati o comunque che sono cresciuti in modo molto disordinato molti sono storti e creano disagio anche spesso alla circolazione. E non ultimo non voglio dimenticare anche il fatto che la pista ciclabile è una pista di tipo ciclo pedonale e quindi metterà in sicurezza anche tutti i pedoni e tutti i ciclisti che giornalmente si cimentano qui in attività sportiva. La realizzazione della ciclovia consentirà anche la realizzazione di un'apposita fognatura alla quale tutti i residenti potranno attaccarsi per salvoguardare la falda. Bilancio partecipativo prossimamente un incontro al Comune con i promotori dei progetti più votati. A breve si prevede un incontro al Comune con i promotori dei progetti più votati dai cittadini da finanziare con le somme del bilancio partecipativo 2022 per definire gli ultimi dettagli per l'avvio degli stessi. Intanto si pensa anche a quei progetti vincitori delle votazioni degli anni precedenti ma non ancora realizzati. Si sta intanto cercando di trovare una soluzione per tutti quelli che sono i progetti pregressi che per un motivo o per un altro vuoi anche i due anni di particolarità legati al Covid diciamo che si sono incagliati in questo percorso che stiamo cercando di risolvere ovviamente nella verifica della persona e dei progetti stessi. quindi ci è voluto un po' di tempo per dipanare un po' questa matassa e ho sollecitato gli uffici per far partire la lettera per chiedere ai vincitori del bilancio partecipativo del 2022 di incontrarli allo scopo di appunto per evitare anche in futuro potenziali disguidi o lungaggini burocratiche fuori luogo proporremo loro di rispettare un tabellino di marcia e comunque porterà tutti quanti a completare nel rispetto di quanto previsto dai progetti stessi entro comunque il 31-12-2023. Per quanto riguarda invece il bilancio partecipativo 2023 potrebbero esserci delle novità sulle modalità di votazione per incrementare l'adesione da parte dei cittadini. e vorremmo che i bilanci partecipativi venissero votati da quanti più cittadini possibili e resici conto che la modalità dell'esclusivo voto online risulta limitante per tante fasce di cittadini o per chi riesce non riesce ad accedere per via dello spito per quanto più complesso può essere per loro l'uso dello strumento telematico stiamo lavorando affinché il voto possa essere espresso anche agli uffici URP quindi qui sotto il municipio nel momento in cui saranno aperti i termini delle votazioni ci sarà personale adeguato che chiedendo più semplicemente per molti il tesserino del codice fiscale il documento di identità potranno esprimere il proprio voto diciamo che un po' si torna tra virgolette all'antica ma per cercare di ampliare quanto più possibile la base dei cittadini votanti la regione ha una precisa strategia per lo sviluppo turistico ed economico della Sicilia la fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e le azioni per la valorizzazione del territorio e delle sue specificità rappresentano la direttrice su cui si muove la programmazione regionale così l'assessore regionale al turismo Elvira Mata intervenendo su delega del presidente della regione Renato Schifani all'incontro risorse e progetti per la Sicilia organizzato da Cassa Depositi e Prestiti al Teatro Massimo di Palermo questo incontro aggiunto l'assessore ci ha consentito di mettere a confronto esperienze e competenze in un'ottica finalizzata a stimolare sempre di più forme di progettazione che siano coerenti con le esigenze del territorio la regione è pronta a condividere con Cassa Depositi e Prestiti ogni altra utile iniziativa considerando quella di oggi solo una tappa di un rapporto di collaborazione Bando di gara per la realizzazione della tangenziale di Gela investimento complessivo di oltre 304 milioni di euro Sulla gazzetta ufficiale di oggi è stato pubblicato il bando di gara finalizzato ai lavori di realizzazione della tangenziale di Gela per un investimento complessivo di oltre 304 milioni di euro dopo l'approvazione del progetto definitivo per appalto integrato da parte del commissario straordinario di governo ingegner Raffaele Celia ha preso avvio la procedura di appalto che prevede la realizzazione di una nuova arteria stradale a monte dell'abitato gelese che collegherà la statale 117 bis alla statale 626 L'investimento complessivo include 3,8 milioni di euro per la progettazione esecutiva 2,5 milioni per il piano di monitoraggio ambientale ande operam e in corso d'opera oltre a quasi 9 milioni di euro per gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso L'appalto prevede una durata per la realizzazione pari a 1825 giorni comprensivi di 365 giorni per il piano di monitoraggio ande operam e per la redazione del progetto esecutivo e di 1460 giorni per l'esecuzione dei lavori comprensivi di 150 giorni per andamento stagionale sfavorevole Il finanziamento ha tinto in parte dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 in parte dal contratto di programma 2014-2016 fra ANAS e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti L'appalto sarà giudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa assegnando un massimo di 20 punti alla componente prezzo e un massimo di 80 punti alla componente qualitativa Le offerte digitali corredate dalla documentazione richiesta dovranno pervenire entro le ore 12 del 7 aprile 2023 sul portale acquisti di ANAS Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha ricevuto stamane a Palazzo d'Orleano il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Sicilia Gianluca Costanzo e un componente del consiglio centrale dei giovani imprenditori di Confindustria Marco Di Grazia nel corso dell'incontro al quale rappresenta anche il direttore di Confindustria Sicilia Alessia Bivona si è discusso delle sinergie tra governo regionale e l'associazione degli industriali in particolare per quanto riguarda le start-up gli imprenditori hanno illustrato al presidente Talentis il programma di Confindustria Giovani dedicato proprio alle imprese italiane costituite da meno di 5 anni Piano di Ripresa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza progetti di edilizia scolastica in 6 province sentiamo Sono 44 le opere di edilizia scolastica da realizzare in Sicilia entro il 2025 con i fondi del PNRR pare a oltre 91 milioni di euro Regione Siciliana ha presentato al Ministero dell'Istruzione l'elenco degli interventi coerenti con le finalità e gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in linea con quanto richiesto dal Piano di Messa in Sicurezza e Riqualificazione dell'edilizia scolastica il monitoraggio del Dipartimento regionale dell'Istruzione ha preso in esame 78 progetti riguardanti le scuole siciliane 44 di essi presentano i requisiti previsti dal PNRR sono cantierabili ha detto l'assessore regionale dell'Istruzione Mimmo Turano interventi riguardano se province della Sicilia interessano scuole elementari medie istituti comprensivi di pertinenza dei comuni istituti superiori delle città metropolitane si tratta di 44 interventi in tutto per un finanziamento complessivo di oltre 91 milioni di euro in particolare sono previsti due interventi nella provincia di Agrigento come nella provincia di Enna nel Catanese 9 interventi mentre nella provincia di Messina è previsto il maggior numero di interventi per un totale di 15 nel Palermitano sono 7 nella provincia di Raiusa 4 due interventi interesseranno la provincia di Siracusa infine 3 nel Trapanese i progetti individuati dovranno garantire il rispetto del crono programma quindi i lavori dovranno essere aggiudicati entro il 15 settembre 2023 avviati entro il 30 novembre 2023 e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2025 il collaudo finale dell'opera è previsto entro il 31 marzo 2026 andiamo adesso all'intitolazione della scuola primaria di Santa Barbara Rita Borsellino presente anche la figlia sentiamo lunedì pomeriggio a Santa Barbara è stata intitolata la scuola primaria Rita Borsellino sorella del giudice Paolo momento significativo per ricordare la figura dell'ex membro del Parlamento Europeo alla presenza della figlia Marta Fiore del dirigente USP Filippo Ciancio e della dirigente scolastica Francesca Ippolito a me piace pensare mamma qui oggi mi piace perché mamma adorava i bambini è sempre stata circondata noi eravamo siamo tre figli ed eravamo sempre in mezzo a una nidiata di cugini e la mamma era la regina di tutti questi bimbi quindi pensarla qui con questi bambini è quello che proverò a fare oggi donare a questi bambini un pezzettino della mia mamma per fargliela sentire come una persona vicina ecco è sempre una grande emozione pensare che un posto dedicato a dei bambini o comunque alle nuove generazioni sia dedicato alla mamma perché in qualche modo è lasciare non tanto un esempio quanto una testimonianza la mamma diceva sempre non parliamo di esempi non parliamo di eroi non parliamo di persone lontane parliamo di testimoni di gente che ha vissuto la sua vita normalmente nella vita di ogni giorno professando i valori in cui ha sempre creduto e in cui è stata educata ecco intitolare un luogo di educazione soprattutto una scuola elementare una scuola primaria di un territorio difficile che ci diciamo rende attenti da parte del proprio editorato ovviamente è ancora più qualificato il fatto che le sia stato attribuito un nome eccellente con questa nuova intitolazione è una giornata felice sicuramente siamo contenti e onorati di poter intitolare il nostro plesso della scuola primaria Santa Barbara a Rita Borsellino ha un valore particolare questa intitolazione perché la scuola ovviamente qua a Santa Barbara è l'unico presidio istituzionale presente un presidio di legalità i nostri ragazzi sono stati naturalmente preparati a conoscere la personalità di Rita Borsellino e naturalmente il tutto si inquadra all'interno di quelli che sono i valori che la scuola vuole dare ai nostri giovani alunni che sono anche i cittadini del nostro territorio e quindi è un momento particolarmente felice sicuramente per tutti noi speriamo che rimanga nella memoria di questi ragazzi a lungo sicuramente speriamo appunto di poter intervenire sul loro percorso per aiutarli a intraprendere una vita serena felice consapevoli delle loro scelte e sicuramente dei buoni cittadini è stato definito il programma della festa in onore di Gesù Nazareno parla anche il portabandiera Vincenzo Lomuto è stato definito il programma della festa di Gesù Nazareno per il 2023 un calendario ricco di appuntamenti e che infatti ricorda quello degli anni passati prima della pandemia prevedendo anche un concerto e il torneo di pallavolo si comincerà con le esposizioni del simulacro di Gesù Nazareno nelle chiese cittadine a partire da Santa Barbara sarà questo sabato 25 febbraio dove arriverà dopo una breve visita nella chiesa di Santa Maria del Rosario a Sabucina con la recita del Rosario sabato 4 marzo il simulacro verrà trasferito nella chiesa di San Biagio la settimana successiva nella chiesa di San Pietro per poi rientrare a Sant'Agata sabato 18 marzo lì dove rimarrà fino alla domenica delle palme il 2 aprile Santa Barbara per noi è un ritorno è stata l'ultima chiesa che abbiamo visitato nel 2019 quindi l'abbiamo voluto riprendere proprio da lì proprio a volere segnare questa ripresa questo punto diciamo di interconnessione si punta al coinvolgimento dei giovani per far conoscere e tramandare le tradizioni cerchiamo sempre di cercare giovani di farli avvicinare il più possibile alla nostra processione proprio per cercare di mantenere sempre le tradizioni questo è lo scopo del torneo e della presenza dei bambini nella nostra processione nominato il portabandiera di quest'anno il docente ingegnere 54enne Vincenzo Lomuto che da anni fa parte dell'associazione sono lusingato e onorato di fare il portabandiera per l'associazione Gesù Nazareno perché dopo dieci anni dal 2013 che io frequento l'associazione avere questo riconoscimento è sicuramente un'emozione un'emozione sia per la devozione che ho verso il Gesù Nazareno insieme alla mia famiglia e sia anche perché la festa del Gesù Nazareno rappresenta l'inizio di quella che è la Settimana Santa che è una manifestazione storico-folcloristico dalla nostra città che ovviamente è un punto di forza anche per il turismo e per quello che è le tradizioni di Calta Nessetta Una grande devozione non soltanto da parte dei fedeli che arrivano in centro per assistere alla processione ma anche da parte di chi la vive da vicino come il gruppo dei portatori I portatori sono un elemento determinante in questa processione perché la processione prevede una parte che è proprio quella della processione dei bambini poi noi dell'associazione il clero ma diciamo la vera forza di questa di questa processione sono i portatori che per devozione anche loro svolgono un lavoro faticoso ma sicuramente particolare e determinante per la riuscita di una festa che è proprio come dicevo poco fa l'inizio di questa settimana settimana santa Mozart il piacere della musica il concerto conquista la platea del teatro Margherita applausi interminabili per il concerto Mozart il piacere della musica che ha conquistato la platea gremita di pubblico dei lunedì del Bellini una rassegna di ingresso gratuito per la stagione musicale svelamenti al teatro Regina Margherita di Caltanissetta ad esibirsi il quartetto d'archi con Raffaello Pilato e Aldo Traverso al violino Marco Traverso alla viola ed Emanuele Lamosa al violoncello il concerto realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Stato Vincenzo Bellini di Caltanissetta riteniamo che la musica possa essere anche una forma di abbellimento proprio dell'animo della nostra società questo centro Sicilia che per troppo tempo è stato maltrattato è stato bistrattato che oggi vede un'istituzione che è un conservatorio di Stato che diventa insieme al Comune di Caltanissetta e insieme alle istituzioni un elemento propulsore di cultura un elemento propulsore di cultura è un elemento propulsore anche di economia perché non dobbiamo dimenticare che tutto ciò che noi facciamo serve al territorio e il territorio serve a noi ci scambiamo chiaramente delle abilità delle risorse questo è molto importante ed è per questo che è bello anche vedere fare rete perché è bello vedere le istituzioni che cominciano anche a comprendere e a fare rete con la nostra istituzione culturale e soprattutto il pubblico che è sempre più attento e sempre più interessato ai concerti un programma scelto che ha raccontato l'evoluzione compositiva di Mozart dove la drammaticità e i contrasti in termini di ritmo la melodia e l'armonia hanno catturato il pubblico fino all'ultima nota dal quartetto per archi numero 3 in sol maggiore fino alla piccola serenata notturna e ringraziamo la risposta della cittadinanza questa sera assistiamo al terzo concerto della stagione concertistica il primo lo ricordo tanto per fare un escursus veloce è stato il concerto di Natale con il gruppo di fiate dopo abbiamo avuto il gruppo dei flautisti i flauti in festa dopo questa sera abbiamo avuto facciamo il concerto un omaggio a Mozart con il nostro quartetto proposto dai nostri docenti interni dal primo violino maestro Raffaello Pilato dal secondo violino maestro Aldo Traverso dalla violoncellista Emanuela Mosa dal violista Marco Traverso dopo successivamente avremo l'operina dove stiamo impiegando parecchie forze dove avremo sia l'orchestra che è composta dal Dipartimento di Arche e di Fiati con il Dipartimento di Canto regia ci sarà un po' di tutto il prossimo appuntamento sarà il 20 marzo con Bastiano e Bastiana di Mozart andiamo adesso allo sport rugby allenamento delle selezioni regionali under 16 e 17 allo stadio Tomaselli di Caltanissetta per lo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta è arrivato il momento di indossare ufficialmente la casacca da rugby in occasione dell'allenamento regionale delle selezioni siciliane under 16 e 17 organizzato dalla Federazione Italiana Rugby Sicilia la Nista Rugby ha messo a disposizione la Clubhouse l'assistenza sanitaria e si è impegnata a organizzare il terzo tempo inoltre si sono disputati anche consueti allenamenti delle categorie under 9 e 11 della società nissena impegnate nei raggruppamenti federali e regionali finalmente il 14 febbraio abbiamo potuto svolgere la prima attività federale ufficiale al Tomaselli come già evidenziato ha detto il direttore sportivo Andrea Lo Celso per noi sarà un anno di transizione perché avere casa pronta a metà stagione di certo non ha agevolato la nostra attività cercheremo da oggi in poi di svolgere ancora più lavoro con tutte le categorie a disposizione il dirigente ha continuato ringraziando per la fiducia all'ex presidente della Federazione Italiana Rugby Sicilia Orazio Arancio e l'ex amministrazione Ruvolo senza dimenticare il lavoro svolto dall'attuale sindaco Roberto Gambino dalla sua giunta e dal geometra Sardo infine ha concluso Lo Celso un vigoroso grazie al presidente nazionale della Federazione Italiana Rugby Marzio Innocenti e a quello regionale Gianni Saraceno bene era questa l'ultima notizia per oggi non ci sono ulteriori aggiornamenti ci vediamo nelle prossime edizioni del telegiornale intanto vi lascio al meto le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito Amici di Trevi Meteo un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì la situazione sinottica in Europa ci mostra il graduale indebolimento dell'anticiclone presente sul Mediterraneo e sull'Italia per l'afflusso di correnti un po' più umide dai quadranti occidentali che piloteranno anche una blanda perturbazione si avvicinerà all'Italia entro la fine della giornata vediamo infatti la nuvorosità sull'Italia che ci mostra oltre alle nubi basse e alle foschie spesse presenti sul litorale terrenico e a tratti anche su quello adriatico l'arrivo di nubi medio alte che porteranno proprio un espessimento della nuvorosità al centro nord e l'arrivo anche di qualche goccia di pioggia entro fine giornata diamo dunque uno sguardo alla previsione per la giornata di mercoledì che ci mostra un aumento delle nubi su gran parte del centro nord Italia che saranno associate anche a delle deboli piogge in arrivo soprattutto dal pomeriggio tra Liguria e Alta Toscana e poi entro fine giornata qualche blando fenomeno anche al nord ovest prevaranno invece le schiarite alla sud in un contesto climatico sempre molto mite per il periodo le minime infatti saranno in aumento e le massime sempre generalmente comprese tra 10 e 17 gradi su gran parte delle nostre regioni con questo è tutto per maggiori dettagli vi invito a consultare il nostro sito o l'app gratuita di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Vizzini Viale Trieste Servizio notturno Marrocco Via Rosso di San Secondo